Persone non identificate hanno messo in atto l'intimidazione ai danni di Don Ennio Stamile, coordinatore per la Calabria di Libera. Mentre il sacerdote cenava in un ristorante di Cetraro, un centro dell'alto tireno cosentino, qualcuno ha legato allo specchietto retrovisore esterno della sua automobile un sacco del tipo usato per la spazzatura contenente la carcassa di un capretto. A cena con Don Ennio, insieme ad alcuni scout, c'era il sindaco di Cetraro, Angelo Aita. Sono stati subito avvertiti i carabinieri che sono giunti sul posto ed hanno sequestrato la carcassa del capretto. Don Ennio Stamile ha detto di non sapersi spiegare i motivi dell'intimidazione. Le indagini avviate dai militari riguarda il movente dell'intimidazione non escludono alcune ipotesi. Il presidente della regione Calabria ha immediatamente contattato telefonicamente il sacerdote per esprimergli la propria incondizionata solidarietà e vicinanza e quella della giunta regionale. Mi auguro, ha detto Oliverio, che i responsabili di questo ennesimo vileatto intimidatorio siano al più presto individuati e consegnati all'autorità giudiziaria. Il lavoro di responsabilizzazione e sensibilizzazione che Don Ennio e Libera stanno svolgendo a Cetraro, sul Tirreno Cosentino e in tutta la Calabria è importante e prezioso.